Ciao, adesso vi faccio vedere un'altra magia. Allora, pescate una carta, quella che volete. Boh, questa qua. La guardate, ve la ricordate. Si lascia in cima... Sperta, ho sbagliato. Si va a mettere in mezzo alle carte, si spinge dentro. Adesso, per esempio, andiamo a prendere la prima carta, che è un due di fiori. Era la vostra carta? No. Allora, il due di fiori si lascia qua, qua, che bell'effetto. Bellissimo. Potrei guardare per ore. Vabbè, due di fiori si lascia qua sotto. E basta fare un dribble qua sopra. Aspetta, ve lo faccio vedere bene. Bene, bene. Dribbble. Era carta che era due di fiori. Si trasforma nella vostra. Ciao. Magari, se volete, mettete... Iscrivetevi, ditele ai vostri amici di iscriversi e mettete pollici in su e visualizzazioni un sacco. Iscrivetevi, cosa importantissima. Iscrivetevi. Ciao. Ciao.